la vita è adesso lasciati andare apprezza tutto quello che fai abbi fiducia che la vita ti dà il meglio ti meriti il meglio e accettalo ora elimina tutti gli schemi limitanti che ostacolano il tuo bene nella tua vita tutto è perfetto integro e completo la tua vita ogni istante della tua vita è nuovo vitale e illuminante usa le affermazioni positive per creare esattamente ciò che vuoi oggi è un nuovo giorno sei una persona nuova pensa in modo diverso agisci in modo diverso e anche gli altri ti tratteranno in modo diverso il tuo nuovo mondo è un riflesso del tuo nuovo modo di pensare e deve essere una gioia piantare nuovi semi perché essi diventeranno le tue nuove esperienze sei meraviglioso e questo è il giorno più bello della tua vita tutto opera per il tuo bene qualsiasi cosa di cui hai bisogno ti viene data qualsiasi cosa tu debba sapere ti viene rivelata tutto bene spesso diamo così tanta enfasi alle cose straordinarie quando in realtà sono le piccole cose ordinarie che detengono la chiave per una felicità e una gioia reale e duratura è quello che trova la felicità in ogni piccola cosa che non ha bisogno di niente la maestria della vita sta nel provare la felicità nella vita stessa senza fronzoli riconoscimenti ricchezze o banalità e quando ti svegli con l'aria frizzante del mattino quando il bacio mattutino di una persona cara ti scalda il cuore per il resto della giornata quando l'entusiasmo selvaggio del tuo animaletto domestico ti fa sorridere quando ascolti gli uccellini fuori dalla finestra cantare quando guardi una pianta che sta crescendo un fiore che sboccia quando ti prendi cura degli altri invece che solo di te stesso quando condividi il tuo amore ti concentri nel rendere oggi una buona giornata quando trasmetti la conoscenza acquisita attraverso il dolore ma rendendoti conto che il dolore del tuo passato è valso la pena quando aiuta ad alleviare il dolore di qualcuno oggi quando ringrazi per tutte le cose che ti hanno portato qui e allora che inizi a capire di cosa si tratta e diventi padrone della tua vita questo è il momento in cui inizi a sentire il potere che porti dentro di te quando non sei ostaggio di niente e di nessuno perché capisci che non hai bisogno nient'altro che di quello che già hai dentro di te parliamo delle cose ordinarie perché quando le apprezziamo iniziamo a vivere lo straordinario e quindi Grazie a tutti